In un certo senso per un certo periodo ho smesso di fare Finardi, cioè ci sono io e poi c'è Finardi, il brand, l'azienda, il personaggio, io l'ho abbandonato, mi sono messo a fare altre cose, il blues, il silenzio dello spirito, il blues che amo tantissimo. Diventare padre ha contato in questa trasformazione. Sì, molto, sì. Però sì, ma ha contato più il crescere proprio e l'avere il coraggio di lasciare, di crescere come musicista, di spostare l'orizzonte, di arrivare ad altre cose. E a un certo punto mi sono trovato che il posto dove sto più comodo al mondo è sul palco.